Salute, talcaglia di calcio, talcaglia di calcio, apparece, insomma in fascia profonda. Che ci vogliamo stasera? Un bel porcetto. Beh, se ce l'avessi, sì, però no, no, io potrei preparare una cosa che mia nonna mi soleva fare quando ero bambino, insieme al bicchiere di vino a colazione, cioè erano del matorezzo azzurro di salsiccia, matorezzo è una pasta tipica sarda, i gnocchetti sardini, chiamati vizietti, il matorezzo. 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 cerchiamo eliminato non so se possiamo aggiungere strumento campanello pianoforte ma noi non siamo chitarristi c'è qualche chitarra di serizona qualcuno non sarei io dai facci cavallare facci volare non so se possiamo aggiungere strumento campanello 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 non so se possiamo aggiungere strumento per la casa I don't want to cry! And around, and around, around, and called. And once upon a time. They won't born! Lettuce! Every time! See? 1, 2, 3, 4. Grazie.